La squadra mobile di Rimini ha sgominato la baby gang che nelle settimane scorse aveva terrorizzato coetanei con aggressioni e rapine, fermati quattro minorenni. Coronavirus a Rimini tre casi di cui due sintomatici, in regione 76 in più, un terzo da rientri dall'estero e vacanze, tornano a salire i ricoverati. Turismo, primi dati post lockdown su arrivi e presenze, a giugno meno 78%, Riccione è la località che in provincia si difende meglio. Il Tardice no alla sospensiva, le discoteche restano chiuse, interesse secondario rispetto alla salute, resta aperta l'ipotesi di risarcimento danni a imprenditori e lavoratori. Ben rientrati in studio. La squadra mobile di Rimini ha sgominato una baby gang che dopo il lockdown aveva iniziato a seminare il panico in città, aggredendo e rapinando gruppi di coetanei. Tre dei quattro componenti della banda sono minorenni riminesi. Vediamo. Si divertivano a terrorizzare i loro coetanei con intimidazioni, aggressioni fisiche e persino rapine. Quattro ragazzini di età compresa tra i 15 e i 17 anni, di cui tre riminesi e uno di origini napoletane, sono stati individuati e fermati dai poliziotti della mobile. Un'indagine accurata, durata mesi, che ha spinto il GIP del Tribunale per i minorenni di Bologna ad emettere nei confronti dei responsabili un provvedimento di custodia domiciliare, con le accuse di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e violenza privata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della questura di Rimini, emergerebbe in modo chiaro una spiccata indole criminale, caratterizzata da atteggiamenti violenti e prepotenti per il solo gusto di sentirsi forti, tanto che le vittime erano arrivate al punto di dover modificare le loro abitudini quotidiane, pur di evitare aggressioni fisiche culminate a rapine di cellulari e soldi. Come successo il 3 luglio scorso, quando nell'invaso del ponte di Tiberio, abituale ritrovo di vari gruppi di giovani, un 17enne riminese è stato circondato e picchiato selvaggiamente dal quartetto, che lo ha riempito di schiaffi, pugni e calci e colpito addirittura con un casco, prima di impossessarsi del suo telefonino e dei suoi soldi. Un atteggiamento, quello posto in essere dalla baby gang, che mirava al riconoscimento di una supremazia non solo territoriale, come se vince da una delle ultime aggressioni durante la quale un componente della banda avrebbe costretto la vittima ad inginocchiarsi al suo cospetto e a chiamarlo re del mondo. In due giorni, a ridosso del ferragosto, avevano rubato dal supermercato 250 euro di alcolici per poi rivenderli ai mini market. Una coppia di ladri, lei è una 24enne riminese, è stata denunciata per furto aggravato in concorso. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del Conad Il Lago di Via della Fiera è chiaro il modus operandi. Lui prendeva le bottiglie, staccava le etichette antitaccheggio e le lasciava tra gli scaffali del settore per animali domestici. Lei subito dopo arrivava e le infilava in una borsa. La polizia locale di Rimini ha proceduto al fermo della ragazza e alla denuncia per furto aggravato in concorso e continuato. Gli alcolici poi venivano rivenduti sotto banco a pochi euro ai titolari di alcuni mini market cittadini su cui la polizia locale riminese sta indagando. Se nel riminese i nuovi casi di coronavirus restano ancora pochi oggi in regione si registra un nuovo aumento e mentre resta sempre sotto attenzione il tema dei rientri dall'estero dopo diverse settimane si registra un nuovo aumento di ricoveri negli ospedali. Vediamo. Dopo due giorni a quota zero sono tre i casi di coronavirus registrati oggi per la provincia di Rimini, due donne e un uomo, tutti e tre in isolamento domiciliare, due con lievi sintomi. Sono contatti stretti di casi già noti e un rientro da un paese non Schengen. Oggi nel riminese non si registrano guarigioni. In Emilia Romagna i casi di positività tornano in crescita. 76 di cui 47 asintomatici. Aumentano anche i tamponi, oggi quasi 9.300. In regione c'è un decesso, un uomo nel bolognese. Dei 76 nuovi casi, 35 erano già in isolamento al momento del tampone. 36 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. 23 sono legati a vacanze o rientri dall'estero. Crescono le persone guarite, 69 in più. Le province con più casi sono Ferrara, 15, di cui 8 riconducibili a un centro di urno per persone con disabilità. Modena, 13 casi e Bologna, 12. Nuovi casi riguardano rientri da Francia, Spagna, Albania, Ucraina, Malta e Croazia. I casi attivi sono 1.795, 6 in più. Le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o senza sintomi, sono 1.707, 6 in meno. Il 95% dei casi attivi. E dopo un lungo stallo si muove la situazione negli ospedali. In un solo giorno tre nuovi pazienti in terapia intensiva, 7 in totale, 81 quelli negli altri reparti Covid, 9 in più. E anche San Marino intanto fa i conti con i rientri dall'estero. Sono risultate positive due sanmarinesi tornate dalla Croazia. Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute ha chiuso le discoteche e introdotto l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c'è il rischio assembramenti. Lo ha deciso il Presidente della terza sezione Quater del Tarra del Lazio con un decreto monocratico con il quale ha respinto la richiesta di sospensione proposta dal SILB FIPE, Associazione Italiana e imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. Per il Tar l'interesse è secondario rispetto alla salute. E intanto è già stata fissata il 9 settembre l'udienza in Camera di Consiglio per la valutazione collegiale del ricorso. Nelle premesse del provvedimento impugnato si richiama la comune volontà della conferenza dei Presidenti delle Regioni e del Ministero dello Sviluppo Economico di aprire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria per individuare interventi economici di sostegno nazionale al settore. Ma i gestori non ci stanno. Fino al 7 settembre dicono staremo chiusi e ora prolifererà l'abusivismo. Così ha detto all'Ansa Maurizio Pasca che è il Presidente del SILB. Siamo già in possesso di centinaia di video di feste abusive in villa che sfuggono a ogni controllo. In un filmato, sempre secondo Pasca, ci sarebbero anche giovani che addirittura si dichiarano positivi al Covid. In attesa dei numeri sicuramente più indicativi di luglio e agosto, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l'andamento di arrivi e presenze turistiche relativi al mese di giugno, che è il primo mese dopo il lockdown. Il 3 giugno sono ripartiti gli spostamenti tra le regioni, il 15 sono state riaperte le frontiere europee. Di fatto, giugno ha segnato l'avvio della ripartenza dopo il lockdown per tutte le attività, turismo compreso, anche se molto a rilento. In provincia, gli arrivi a giugno sono stati circa 202.000, mentre le presenze 644.000, rispettivamente in calo del 69,6% e del 78% rispetto allo stesso mese 2019, quando i pernottamenti sfiorarono i 3 milioni. La performance migliore, considerando le criticità, è stata quella di Riccione, che ha contenuto i segni meno. I turisti arrivati sono stati oltre 67.000, in calo comunque del 56,9%, per un totale di 206.000 pernottamenti, il 68,3% in meno. Numeri in netta diminuzione, ma migliori delle altre realtà provinciali. A Rimini, ad esempio, gli arrivi di giugno sono stati 77.000, il 74,7% in meno, mentre le presenze, 240.000, hanno visto un tracollo di quasi l'81%. Basti pensare che per il capoluogo i dati di giugno sono di poco superiori a quelli del mese di gennaio. Per quanto riguarda Cattolica, arrivi in calo del 72,5% e presenze dell'81,8%. Accorpati nell'analisi statistica regionale, gli altri due comuni Riviera Aschi, Misano e Bellaria, che a giugno hanno visto l'arrivo di oltre 33.000 turisti, quasi meno 72%, con 119.000 pernottamenti meno 81%. Complessivamente, in provincia, nei primi sei mesi del 2020, si sono registrate 1.375.000 presenze. Lo scorso anno erano 5.300.000. A segnare il calo più consistente, e non potrebbe essere altrimenti in quest'annata funestata dal Covid, il turismo estero, con un calo di arrivi che sfiora l'84%, dato che penalizza in particolare il comune di Rimini, che negli scorsi anni aveva recuperato fette importanti di turismo estero. E intanto Visit Rimini stila un bilancio delle ultime settimane, parlando di un buon ferragosto e di un trend positivo per le prossime settimane, con prenotazioni last second. Segnali positivi spiega, ma non sufficienti a risollevare la stagione, e per questo si stanno studiando pacchetti per allungare le proposte oltre l'estate. I quattro ambiti sono arte e cultura, fellini, benessere e attività all'aria aperta, ed enogastronomia. La scuola riapre il 14 settembre. Se questo è il punto fermo, ribadito oggi anche dal Ministro agli Affari Regionali Boccia, ci sono ancora tanti pezzi da sistemare in un puzzle complicato su cui stanno lavorando senza sosta i presidi italiani. Il Comitato Tecnico Scientifico, che come indicazione prevede il mantenimento della mascherina in classe per i bambini, deve anche definire i protocolli da seguire in caso di contagio. Questa è l'incertezza che preoccupa di più i dirigenti scolastici. Sentiamo. La delusione, ma anche lo sconcerto che abbiamo provato in varie occasioni, in qualche modo ha messo a dura prova la nostra pazienza e la nostra, in qualche modo, dedizione. La volontà di riaprire c'è, solo che ci sono tante pedine che devono andare a posto. Nonostante le ferie mancate e il lavoro praticamente ininterrotto, armati di metro nelle aule, a meno di un mese dall'inizio della scuola il difficile puzzle della riapertura è ancora da comporre per i presidi. Quello degli spazi è in realtà il nodo meno problematico. Gli enti locali stanno facendo lavori di adeguamento in molte scuole, dove per far posto ai banchi distanziati con appositi finanziamenti si stanno buttando giù muri o creando separazioni. Lavori la cui tempistica non desta preoccupazioni. Sui banchi monoposto al centro da settimane, se non da mesi, dell'attenzione mediatica sul tema scuola è oggi arrivata la notizia che la consegna partirà dal 7-8 settembre. Molte scuole, tra cui la mia, non hanno necessità di banchi monoposto, perché noi li abbiamo sempre avuti. In altri casi, dove in effetti i banchi monoposto non c'erano, questa cosa creerà dei problemi. Tra i nodi da sciogliere c'è poi il trasporto scolastico. I trasporti al momento non sono stati in grado di fornirci al momento le risposte che chiediamo. La differenziazione degli orari non è possibile, ma allora intensificazione dei mezzi negli orari canonici. Unica deroga al distanziamento è ammesso per il percorso interiore ai 15 minuti. A me fa abbastanza ridere perché è un orario che si sfora senza tema dismentita in qualsiasi corsa che sia extraurbana. Parallelamente a tutte le questioni per far partire l'anno, poi entrano in gioco quelle per mantenere aperte le scuole. Oggi il Comitato Tecnico Scientifico ha detto che i bambini dai sei anni in poi dovranno tenere le mascherine tutto il tempo e resta ancora da definire il protocollo sanitario da seguire in caso di contagi. Una volta che c'è stato l'accertamento di un caso positivo, uno solo, due, tre, a quel punto, all'interno della scuola, che cosa dobbiamo fare? E' questo che non è chiaro. Seconda giornata oggi al Palacongressi di Rimini per il 41esimo meeting. Tra i temi di oggi la situazione dell'occupazione in Italia. Se ne è parlato nell'incontro un nuovo mondo del lavoro, nuovi modi di lavorare. Ospite è il presidente dell'Istat che ha tracciato il quadro dopo i mesi del lockdown, introducendo nel dibattito anche il fattore sfiducia. I dati Istat di marzo, aprile e maggio hanno segnato una forte caduta dell'occupazione, poi da maggio una ripresa confermata in giugno. Ma sottolinea al meeting il presidente dell'Istituto di Statistica, oggi sul mercato del lavoro c'è un pericolo di natura psicologica. L'elemento delicato è non tanto la caduta degli occupati, che comunque c'è stata, ma è soprattutto, quello che forse diventa più preoccupante, è lo scoraggiamento. Cioè il fatto che ci sia una diffusa situazione di soggetti che non si offrono sul mercato del lavoro perché dice tanto non ci sarebbero delle opportunità. Quindi paradossalmente ci troviamo ad avere il tasso di disoccupazione che diminuisce, ma diminuisce semplicemente perché diminuisce la forza lavoro. Cioè ci sono i soggetti che non arrivano neanche a offrirsi perché tanto non ne vale la pena. Ecco, questo è un elemento importante da tenere sotto controllo e rispetto al quale naturalmente cercare di immaginare una qualche forma di reazione. Il lockdown ha aperto il grande tema dello smart working, un'opportunità su cui però c'è ancora molto da lavorare. Dobbiamo cercare di essere sufficientemente bravi di trovare una soluzione equilibrata che consenta di valorizzare questa opportunità lasciando naturalmente altre strade aperte e ci consenta di poterlo fare in maniera differenziata in relazione a quelle che sono le problematiche dei settori, del mondo del lavoro e degli stessi lavoratori. Ecco, la strada è ancora lunga. Non illudiamoci di aver trovato la soluzione, però abbiamo una via da percorrere. Al centro ci deve essere comunque l'individuo. Se c'è chi chiede di continuare lo smart working anche dopo il lockdown, c'è anche chi patisce l'isolamento a casa. E anche dalle aziende che lo smart working lo sperimentano da anni arriva l'invito a ragionare più su fiducia e responsabilità che su rigidi paletti. La battaglia che sto portando avanti al mio interno è quello di non regolamentare lo smart working. Perché a me non piace l'idea di dire un giorno a casa, quattro giorni al lavoro, tre giorni a casa, due giorni al lavoro. Perché è anche qui un irrigidimento che non funziona, non fa bene. Quello che noi pensiamo invece è capire quelli che sono appunto i processi lavorativi dove tu puoi benissimo lavorare da casa e dove invece è il momento di vedersi attorno a un tavolo per discutere qualche cosa che è meglio farlo appunto attorno a un tavolo e non attraverso un computer. Rocca di Luna, il tradizionale appuntamento sotto la luna piena a Montefiore Conca non si lascia intimorire dalle ultime ordinanze anti-covid e allora sposta le date il 5 e 6 settembre invece di luglio per una ventisettesima edizione dedicata alla settima arte. Rocca di Luna diventa un po' più festival nella sua ventisettesima edizione che celebra l'arte nelle varie forme con un omaggio particolare al cinema nel centenario della nascita di Fellini. Direzione artistica quest'anno affidata a Joseph Nenci un programma molto ricco che invece del plenilunio di luglio come da tradizione si tiene a Montefiore il 5 e 6 settembre altro momento da calendario da luna piena spettacoli di videoarte, mostre, performance, presentazioni di libri proiezioni di film, spettacoli teatrali ospitati nelle sale della Rocca e nella sua arena presenti anche i tradizionali mercatini di artigianato locale tanti anche gli artisti locali come Nico Note in scena otto concerti tra cui quello di Angelo Anastasio chitarrista per tanti cantautori importanti che ha attraversato 40 anni di storia della musica italiana. Ciao a tutti, sarò molto 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 contento di essere con voi il 6 settembre a Rocca di Luna a presto Un'organizzazione difficile e faticosa quella di quest'anno per le tante disposizioni anti-covid da rispettare ultima delle quali l'ordinanza sull'uso delle mascherine dopo le 18 Gli allestimenti degli spettacoli quest'anno anche nella Rocca la ricerca di spazi per distanziare il pubblico gli ingressi saranno ovviamente contingentati comporteranno anche la rinuncia ai fuochi d'artificio che normalmente partono proprio dalla Rocca ma nonostante le difficoltà non si poteva non esserci, dicono gli organizzatori Proprio in questi momenti di difficoltà e abbiamo visto anche sulla costa quelle che possono essere le problematiche legate agli assembramenti l'entroterra deve porgere il fianco alla costa essere disponibile con una proposta interessante per cercare di attrarre più turisti, più residenti possibile per fare in modo che si possano distribuire equamente sul territorio Rocca di Luna ha anche questa funzione quest'anno proprio quella di dare una proposta in un periodo inizio settembre che comunque è di interesse turistico e allora esserci permette di dare una diversificazione all'offerta locale attraverso quello che poi è il nostro territorio Ed è tutto per questa edizione io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it le frequenze di Radio Icaro sui 92 e anche Icaro Play la nostra piattaforma sulla quale potete vedere e rivedere on demand a tutti i nostri contenuti e i nostri programmi grazie dell'attenzione e buona serata